La mando in vacca ogni tanto e poi la ritiriamo. Vai tranquillo. No, ti chiedevo prima, quindi è la prima, primissima questa qua? Sì, la prima, la seconda, sono a due scritte, questa è la prima. È la prima, speriamo di una lunga serie. Sì, speriamo. Io l'ho già detto che ho un po' di sindrome dell'impostore. Normalmente avrei detto di no, però a te gazzo voglio bene, quindi proviamo. Sì, no, no, hai fatto da. Vittorio Maria Dalmaso, 28 anni, imprenditore, libero professionista, tratti, intelligenza artificiale, moda, eccetera, eccetera. Non lo so, hai un aggettivo che può definirti meglio? Sinceramente sono in the making, cioè capiamo. Nel senso io mi sento probabilmente, non mi piacciono le etichette, mi piace identificarmi come un omino libero, un ometto libero. Tra l'altro voglio fare una piccola premessa. Di recente ho visto una intervista a Pasolini in cui parlava del fatto che uno solo per il fatto di stare in televisione ha un'aura più alta, può essere considerato più importante solo per il fatto di essere dall'altra parte della telecamera, eccetera, eccetera. Cioè di fronte alla telecamera. Quindi io devo fare la grande premessa del fatto che se sembra che io abbia più importanza solo per il fatto che sto per essere intervistato, non è così. Cioè io dirò le mie due cosine e poi vediamo cosa può venire fuori. Però sì, al momento io mi sento solo un giovane uomo libero di esplorare il mondo, di cercare di lavorare, di stare nel mondo, ma con una dimensione magari anche più sottile in qualche modo. Beh, già qualche strada l'hai trovata nel percorso. Qualcosina, sì. E allora, avrò qualche regalo per te oggi, ok? Che ho pensato, intelligenza artificiale, tante domande, tantissime. Ma sono curioso. Speriamo di non fare troppe gaffe e non testarmi troppo, cioè io sono zingarello comunque. Esatto, non diamo troppo lavoro ai montatori poi dopo. Sì, è fico. E vorrei partire da questa cosa qui che è un po' quello che ci caratterizza. Io adesso prenderò questo scrignetto in cui dentro ci sono degli oli essenziali di vario genere. Tu ne sceglierai tre, li metterai qua, uno per volta lo assaporerai in un certo senso e ci regalerai delle immagini, ci regalerai delle emozioni, delle sensazioni, dei ricordi. Quello che ti viene, prendendo tutto il tuo tempo. Sì, sì, io ci volo. Uno, due e tre, così. Limone, rosemary e lavanda. Vai, li faccio qui. Parto dal limone, vediamo. Lui mi ricorda la mia infanzia, perché sono cresciuto andando d'estate in questa casa sul lago di Garda, a limone sul Garda, quindi era una casa con le limonaie, praticamente giardini pensili, cinque giardini lunghi, uno sotto l'altro, incredibili. Da bambino poi stava pure, non so, una tartaruga, che a me sembrava una tartaruga gigante, le Galapagos, probabilmente era grande così, però i ricordi della mia infanzia, diciamo, quasi senza tempo, sanno un po' di limone. Quindi può essere che magari volo su quello. Questo mi piace, la lavanda mi fa buono, buono, direi buono. Not my cup of tea, come dico. È buono, è molto dolce, molto avvolgente. Ah, questo invece mi fa, questo rosmarino, forse andrei di lui. Andrei di rosmarino? Sì, perché invece è la mia vita nuova, forse il rosmarino. Sì, quindi dici il limone è un po' la vita senza tempo da bambino, il rosmarino è un po' la vita nuova. Questo è un po' più spicy. Un po' più gente. Quindi come compagno di viaggio per questa lunga intervista? Io volo su col rosmarino. Rosmarino, sì. Mi piace questa cosa degli olietti, sì, è bello. Fa di sicuro bene la salute, chirurgico. Allora, quindi ti ricorda la tua vita nuova, no? Allora, la tua vita nuova, forse... Casa nuova, Rosmarino. Parti un po' dal 2017, no? Quando ho letto che sei partito con un po' i tuoi nuovi progetti. Sì, un po' ad appassionarmi del mondo delle immagini. Cioè, in realtà di quello da sempre però, diciamo, ho alzato le antenne su quello che è la dimensione delle intelligenze artificiali e poi ovviamente i tool a quel punto erano abbastanza debolucci, però la faccenda è che si poteva già... cioè già sospettavo che avrebbe cambiato il mondo e lo cambierà sempre, tipo, tutt'ora. Ci arriveremo. Facciamo un piccolo passo, anche per spiegare un po' cos'è l'intelligenza artificiale. Allora, noi pensiamo che, come dire, sia nata negli ultimi due anni, anche con l'ultima bolla più a Wall Street che c'è stata, la corsa, no? Allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, però in realtà l'intelligenza artificiale è una cosa antichissima. Nasce addirittura nel 600, poi viene implementata nel 900 con le prime macchine di Alan Turing, poi per arrivare al giorno nostri, no? in cui lo sviluppo, l'implementazione dell'intelligenza artificiale ha fatto un salto di qualità, anche proprio nel linguaggio, con la nascita e diciamo anche la democratizzazione del suo utilizzo, no? Con la varia nascita delle chat, no? La più nota, chat GPT. Sì, certo. Quindi nel 2017 siete partiti forse pochi, non lo so, eravate... Sì, in realtà credo che il viaggio, cioè, vada avanti dagli anni 70, quelli erano i veri visionari. Poi nel 2017 iniziava. Io sono una persona più visiva e ho visto le prime immagini, facevano comunque schifo, però erano, cioè, avevano qualcosa di allucinante. Erano letteralmente allucinazioni, cioè, non so se... Non so se poi col montaggio mettete foto sopra mentre si parla, ma avrei materiale da mandarvi di cose divertenti. E niente, il fatto sta che vedere quelle prime cose mi faceva pensare che... che il mondo stava cambiando, in qualche modo. Allora, come dicevo, ho alzato le antenne, poi piano piano me la sono un po' surfata, perché ho capito che era una cosa grossa, una grande onda che o ci affoghi, o galleggi, o surfi, o... Umilmente direi che provavo a surfarmelo, poi magari... Perché tu partivi da... La l'unica volta che ho provato a surfare mi sono rotto una gamba. No, cioè, ho incalcato un caviglio, quindi ho pensato, forse fa un culo il surf, però... I posti meravigliosi. Sì, quest'altra onda vediamo magari va meglio. E quello che ti volevo chiedere è proprio questo, cioè, tu in realtà non parti dall'intelligenza artificiale, cioè tu partivi da passione, no? Per esistente moda, arte... Ma in realtà un modo di arte, in qualche modo, mi ha sempre affascinato. Sono molto legato al mondo del branding, in qualche modo. Sì, quello mi interessa, il simbolismo, il fatto che... E quindi tu hai subito colto un'opportunità, una finestra di innovazione dirompente, cioè maggiore di quella di internet, per certi aspetti. Sì, sì, concordo. Maggiore di... Però, sai, nel mondo di oggi l'intelligenza artificiale è vista con grande scetticismo, cioè si ha paura, si ha paura di perdere il lavoro, si ha paura di non poter esercitare le proprie passioni. Io lo comprendo. Cioè, sono tutti sentimenti che sono molto comprensibili. Però è come se si vedesse solo una parte della medaglia. Tu hai visto anche l'altra parte della medaglia. Cioè, cercala di raccontarcela un po'. Allora, io sono molto legato, diciamo, al concetto del taoismo, dello yin e dello yang, che poi è il concetto di polarizzazione, che poi è comune a tutte le tradizioni del mondo. E quindi credo che per forza di cose ci sarà sempre un lato A, un lato B nelle cose. Ovviamente il lato A facile, in questo caso, è quello della paura che questa tecnologia può suscitare. Il lato B è che poi in realtà è il nuovo strumento. Io dico sempre queste cose, lo dicevo anche prima ai ragazzi, che per me è proprio Star Wars, capito? Cioè, noi siamo in uno scenario alla Star Wars. La tecnologia arriva, che tu sia uno Jedi o un Sith, avrai la spada laser, ci farei il bene se sei Jedi, ci farei male, ti farei corrompere, perderai l'anima, diventerai, ti verrà la maschera di quello di quello di... se sei Sith. Io credo che, sì, cioè, è solo un nuovo strumento. Col coltello è la stessa cosa, puoi fare, tagliare le zucchine per tua figlia, oppure puoi accoltellare il tuo vicino. Ma infatti, secondo me, quali sono, diciamo, gli aspetti, germi, chiamiamoli germi evolutivi, no? Dove può veramente portare un'evoluzione. E dove anche può portare a non un'evoluzione. Allora, diciamo che quelli lì sono, cioè, secondo me temi caldi li sappiamo, perché comunque viviamo nell'era delle fake news e tutte cose, quindi... Cioè, quella lì è la ciliegina sulla torta, la ciliegina atomica sulla torta di merda delle fake news. Cioè, con questa roba qua farei il delirio. Io, uno dei miei nuovi moti è questo di non... cioè, di non credere a niente che vedo in uno schermo. Adesso c'è tutto quello che mi passa da uno schermo ha perso credibilità e la perderà sempre di più. e dovrò sempre soppesarla bene. Dovrò sempre capire, ma questa cosa è vera, questa cosa è stata... Cioè, già era così, perché comunque tu fai solo col montaggio, fai il delirio, cambi il mondo. Figurati quando ti possono trainare la voce tua, la faccia tua, farti dire cose assurde. E adesso mezzo ancora lo sgami, ma fra due anni... Infatti, prima parlavamo del fatto che bisognero inventare delle password interne alle famiglie, perché... Metti che ti chiamano la tua madre. E con la tua voce clonata su Eleven Labs o su Agen, che mamma, sono nella merda, ho bisogno di 5k, mandameli. Beh, però spiegacela questa, perché poi... Eh no, esatto, c'è... Già fanno, già fanno. Ho una truffa a mia nonna, con la voce di mia sorella, chiedendo di 150 euro al mese, solo che mia sorella è a fianco a mia nonna. No! Scandalo! Capito? Bisognerebbe avere delle password, tipo... Che quando, sai, tua madre riceve una richiesta strana da parte tua, dovresti cercare di esservi concordati su una parola d'ordine che garantisce la veridicità di quella richiesta. Cioè, bisogna pensare che è un nuovo mondo, che tra l'altro non è una cosa a cui dovremmo abituarci nel giro dei prossimi 5-10 anni, cioè, proprio già adesso, cioè... Secondo me hai colto subito un punto, cioè che è la capacità di discernere il vero dal falso, cioè di essere sempre concentrati, attenti, consapevoli, coscienti. Cioè, oggi, grazie all'intelligenza artificiale, non ti è più permesso di poter essere disattento, di non saper cogliere questi aspetti qua, che è esattamente quello che hai detto tu. Secondo me è uno dei due grandi macro aspetti di germi evolutivi che porta all'intelligenza artificiale. E l'altro è quello che forse, non so, ci libera dalle... Sì, infatti io, per una questione... Cioè, come dire, è essenziale essere accorti per quanto riguarda i problemi che questa cosa può provocare, può generare. Però è anche bene usare il cervello per inventarsi la parte buona, cioè, capire quali sono gli aspetti positivi e mettere energia anche su quella cosa lì. Sempre essendo consapevoli del nero, ma focalizzarsi sul bene. Noi siamo abituati a fruire delle notizie partendo dal presupposto che le notizie, per essere notiziabili, devono sempre avere qualcosa di crudo, di brutto, no? Apri un TG, ti dicono l'omicidio, la guarda, il delirio. Certo, è vero, però per una questione di attitudine alla vita è anche bene ritagliarsi degli spazi in cui tu la paura non ce l'hai. Tu hai eccitazione per capire cosa fare di questi strumenti ed è il motivo per cui, secondo me, l'AI sostituirà così tanto le persone a un certo punto, dal punto di vista tecnico, eccetera eccetera, che ci ritroveremo in un angolino a dire ma cos'è che ci rimane? Ci rimarrà probabilmente l'anima, ci rimarrà probabilmente cosa che la scienza oggi non riconosce minimamente, come non riconosce l'amore se non sotto forma di qualche... Particella di qualche... Noi a un certo punto ci troveremo in questo angolo in cui l'unica cosa che ci rimarrà sarà l'anima. Una delle pratiche più diffuse nelle varie tradizioni per connettersi a questa nostra essenza pura profonda è l'arte della meditazione che secondo me in qualche modo è una delle soluzioni più papabili in questo mondo di portello, di qua, a sinistra, a destra, il delirio. Io, in primis, il mio lavoro è stare sul pezzo e vedere cosa esce e ogni tanto, cioè, sono overwild. Cioè, quindi è la tua risposta, diciamo, all'utilizzo sfrenato cioè, in realtà diventa una scusa per guardarsi dentro e dire... Esatto e questo è l'altra secondo me l'altro aspetto positivo che porta lo sviluppo di queste dell'intelligenza artificiale di tutto quello che è la tecnologia e tu l'hai trovato, dici è la meditazione tant'è vero che... Allora, diciamo che ci sono 50 modi, no? Ah, il tuo, il tuo il tuo Io credo di averne 50 cioè, una è la meditazione una buona passeggiata anche Buddha parlava del suo tuclice sentiero ma poi anche le pratiche cristiane evolutive hanno a che fare anche con la carità cioè, che poi non è che devi diventare madre Teresa di Calcutta ma hanno a che fare con una tua etica che devi sviluppare già quella roba lì è come la meditazione capito? Cioè, se uno non meditasse mai ma fosse semplicemente una brava persona si dedicasse a quello sarebbe già cento volte meglio di meditare è importante capire questa cosa qua cioè, capire che che ci sono molti modi per riconnettersi a questa cosa qui e e se non ci credi all'anima queste dinamiche allo spirito diciamo non ti rimarrà probabilmente più niente a un certo punto perché il lavoro non ci sarà più perché verrà eh, sarà strano io, infatti, ecco questo io forse ho accettato Hai un'immaginazione tua del del futuro cioè un'immagine che caratterizza ah, no, esatto ti dico che non riprenda un futuro distopico no? non riprenda la tua no, no, ma infatti il futuro distopico è un modo di visualizzare di immaginare che purtroppo gira su una frequenza bassa diciamo quindi io piuttosto che cyberpunk tenderei a immaginarmi il solarpunk ma io che sono un timidone infatti mi imbarazzo il fatto di avere le telecamere così cioè non sono un timido sono una persona tranquilla faccio la mia vita easy però c'è madonna e collabora con i top però la storia è che per quanto mi riguarda ci sta avere un documento di quello che pensavo a 28 anni e magari me lo riguarderò quando ero 50 e sarò tipo quante stronzate diceva ragazzi oppure magari qualche cosa nella chiamata quando ti ho chiesto Vitto guarda noi abbiamo iniziato questo progetto mi piacerebbe che tu partecipassi e venissi qua a parlare e tu mi hai risposto sì è bellissimo perché mi dà anche l'opportunità di fare una di guardarmi un po' dentro introspettiva una visione introspettiva se ti prendo un po' come uno psicologo oggi perché non ci vado uno psicologo ti dicono che servirebbe quindi però ancora non ce l'hai non ce l'hai regalata l'immagine la tua del futuro eh no esatto guarda io da questo punto di vista credo cioè qua mi fa gioco il so di non sapere perché veramente socratico sì perché ragazzi cioè boh però da una parte credo che cambierà tutto cioè anzi una frase che mi piace molto è questa di cambierà tutto ma non cambierà un cazzo perché alla fine certe storie rimangono sempre identiche però dal punto di vista di cioè adesso anche youtube che con solo sul canale di Mr. Beast ha aggiunto questa cosa che come nello stesso modo in cui cambi i sottotitoli puoi cambiare l'audio e ti esce con la voce doppiata lo stesso di Mr. Beast in giapponese in indie in arabo cioè basterebbe quella roba lì per tirare giù la torre di babele anzi per costruire la torre di babele e già quella roba cambierebbe il mondo perché una persona che conosce quattro lingue oggi è sexy ha gli occhi del mercato gli occhi del mondo gli occhi della sua plasticità mentale e anche potenzialità esperienziale però poi in realtà fra un po' di tempo chiunque potrà farlo ma nel senso il mondo va cambiato poi perché non lo so io ho sempre pensato che il mondo non è che andasse cambiato ma come dire in un certo senso assorbito e superato un po' in senso anche gheliano più che noi siamo sempre portati a dire dobbiamo cambiare cambiamo 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 ma poi alla fine non cambia cioè non è che c'è tutto male quello che oggi o quello che c'era ieri va assorbito e proposto qualcosa di nuovo e quindi è superato in un certo senso ma prendendo anche quello che c'è stato nel passato e portarlo nel futuro è l'unica cioè alla fine è l'unica ma se ho capito una roba nella vita non ho capito granché però è che tutto cambia tutto cambia cioè tipo tutto 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 io non ho più parole cioè a sto punto ho pensato che me la metterò via e agirò di conseguenza voglio riprendere il concetto che hai parlato prima quando hai parlato un po' anche della tua spiritualità dei tuoi momenti personali no nel recentemente no stai cercando di aprire una nuova intraprendere meglio che aprire intraprendere una nuova attività ok e stai cercando anche assistenti no? sì no vabbè in generale mi serve adesso mi è servito ho capito che mi serve qualcuno tutti i fotografi hanno un assistente certo un po' più nero anche chi avesse la passione su certe cose sul tema della della civiltà delle macchine la spiritualità nella civiltà delle macchine no? che prende un po' le tue passioni i tuoi interessi le tue visioni del mondo come scusa rifammi la domanda civiltà delle macchine sì ma quella è la domanda utilizzo delle della macchina dell'intelligenza artificiale però inserire dentro no? dei concetti spirituali ah sì per me è essenziale cioè io ci penso ogni tanto noi parlavamo prima di questo fatto di me ne parlo cioè ormai sono discorrotto su questo punto il fatto che uno non ci pensa ma tutta la nostalgia dei tempi d'oro del passato di quando non esistevano i cellulari Peppe cioè comunque era high tech comunque cioè facendo un salto ancora prima nell'antichità per fare un segno fare il disegno di un bisonte fai bisonte fai due ore fai una linea che poi inventano il pennello ed è come l'AI capito in un secondo l'hai fatto cioè hai risparmiato cioè fai tutto in un centesimo del tempo anche meno e tutto high tech anche la scrittura è tecnologia pura la macchina fotografica è tecnologia assurda uno pensa alla musica del passato abbattiato pensa che bello che era abbattiato poi in realtà è stato il primo che quando ha visto i sinti modulari ha detto wow è incredibile ed era avanti capito anche uno pensa a un Lucio Battisti a che belli tempi del Lucione però lui aveva una chitarra elettrica sotto un mandolino aveva era un uomo cioè in qualche modo la tecnica va di pari passo con lo spirito anche perché non è che uno si la inventa dal buco non so come dire anche un iPhone è fatto di minerali di cose che stanno nel mondo ma come la leghi con l'arte cioè non so tra l'altro scusa il tuo podcast si chiama Beast Time io faccio sempre questo ragionamento uno pensa che l'ape sia naturale e poi l'alveare naturale l'uomo è naturale però l'iPhone dicono che non è naturale ma in realtà è naturale anche l'iPhone perché è solo un elaborato di quella di quella di dei minerali che trovi però che un apetta lo fa l'alveare che comunque è clamoroso noi facciamo questo questo ma possiamo inserire quindi seguendo il discorso che hai fatto prima delle pitture rupestri poi il pennello poi la macchina la macchina fotografica la macchina da presa cinematografica inserire l'intelligenza artificiale nel contesto di arte cioè e ti spiego cosa intendo per arte io cioè lo far scaturire e consolidare quelle facoltà innate in noi quindi la possiamo inserire l'intelligenza artificiale in questo contesto sì come nuovo medium proprio cioè sì nuovo medium di sicuro e ovviamente sarà cioè è già criticato come ogni volta che inventano un nuovo medium tra l'altro non sareggevo questi vecchi articoli dei primi del novecento credo forse un po' dopo ma in cui si parlava delle casse audio durante cioè le casse che avevano appena inventato e questi direttori d'orchestra questi i violinisti così insomma i musicisti che si lamentavano del fatto che questa roba fosse diabolica perché fa sì che uno possa riprodurre la musica senza avere l'effettivo artista di fronte e quindi in questi articoli che parlano di come sta andando tutto a puttane perché ci sono le casse che è una cosa che noi adesso diamo di uno scontato imbarazzante e invece già quello era considerato male le cose sono sempre prima c'è quel detto che io non ti saprei riportare il virgo dettato che le cose vengono sempre prima criticate poi non mi ricordo tipo prima poi odiate poi accettate come ovvio e poi prese in sé date quasi anche per scontato perdoni dalla persona che ha detto io tra l'altro io devo fare veramente mille premesse perché diciamo che il mio take dal punto di vista pratico di coding di ricerca effettiva nel campo dell'AI è misera io sono un umile fruitore di queste tecnologie che ovviamente un po' zingarellamente dentro così me la invento e funziona così però tracci però il tuo percorso da solo nel senso che tu dà una passione grato veramente agli sviluppatori di queste tecnologie perché gli devo tutto io veramente credo che loro siano cioè come se chi ha inventato il pennello boh se si sapesse gli vorremmo un sacco di bene in questo caso lo sappiamo io gli voglio un sacco di bene ai vari ingegneri del mondo che stanno sviluppando queste tecnologie che è veramente creativa cioè non è creativa lei di per sé però io ne parlavo con il signore che è questo Federico Faggin l'uomo che ha inventato il primo microchip commerciale diciamo che provò a vendere la Olivetti dove lavorava e gli dissero che era una stronzata che non serviva a niente perché loro facevano macchine a scrivere non serviva allora Federico Faggin prendeva in California lo vende all'Intel e passa alla storia come il primo microchip commerciale l'Intel 4004 poi si inventa la rotellina dell'iPod e poi si inventa il touch screen prima avevamo i palmari solo e poi questo pensa io non vedo perché dovrei avere il pennino non posso semplicemente toccare con mano svolta questo specie di problema matematico provo a venderlo a Nokia e Motorola credo che gli dicono che è inusile che non gli serve e che sono già a posto poi lo richiamano da Apple dicendogli o forse lui lo propone ad Apple e insomma inventa il touch screen che tutti conosciamo ma Obama gli ha dato la medaglia d'oro alla carriera una roba del genere e questo è un signore che tra l'altro poi negli anni settanta ottanta credo ha creato la prima azienda basata sull'AI o una delle prime che si chiamava Synaptics e appunto io ho avuto la fortuna di incontrarlo in un'occasione a una cena in cui questo mio amico mi chiama perché sapeva che Ian ciao salutiamo ciao 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 Ian è un gran tutto vabbè comunque facciamo questa cena e lui il mio amico sa che io sarei impazzito a fare una cena con un personaggio del calibro di Fagin la facciamo parliamo in più c'è questo fatto che lui mi racconta ma poi in realtà fa 300 conferenze a Lancia questa è una trottola 80 anni 85 non lo so ed è credo in una specie di missione spirituale perché dopo aver fatto tutto quello che ha fatto dopo che il mondo gli dice tu devi fare successo tu devi fare i soldi e così sarai felice lui arriva tutto questo è ancora triste è incasciato ha lasciato tutto no però dice sono ancora incazzato in realtà sono triste non ho che abbia svoltato veramente la vita e allora credo che in quel momento abbia dato una chance alle pratiche meditative eccetera eccetera e da bravo ingegnere da bravo genio arriva anche a toccare il cosiddetto nirvana e questo dopo averlo fatto dice di aver capito che l'amore ha una dimensione che esiste ed è probabilmente la più potente di tutte anche se la scienza oggi non ne riconosce come aveva detto prima esatto e lui comunque mi dice appunto io così gli ho fatto umilmente due domandine riguardo la mia pratica dicendo io faccio questo che faccio cosa ne pensi lui mi dice va benissimo sappi solo che mi ha fatto questo esempio che mi porterò nel cuore perché mi fa sorridere dice ricordati sempre che se tu comunque produci 200 immagini di fiocchi di neve è la tua anima che entra in gioco lì a scegliere le sue preferite quindi la creatività della macchina è forte nel mettere insieme le cose però lei se gli dice fa meno di 10.000 te ne fa 10.000 gli dice fa meno di un milione te ne fa un milione te ne fa indiscriminatamente è l'anima che sceglie cioè l'anima te più più è l'anima della scelta cioè è quello l'uomo diamond sarebbe certo c'è questo fatto qua io leggevo anche una cosa curiosa che stiamo passando dall'era dell'informazione quindi di internet tutte cose all'era della curatela the curation age che è interessante cioè adesso non è più ovvero cioè in teoria adesso potremmo mixare le cose avere mille output di ogni cosa e sarà solo un tema di scegliere di curare gli output cioè di come l'attività di curatela di un gallerista cioè di un curatore artistico ma la scelta è importante cioè è quello che poi cioè quella che ti rappresenta è quello che rappresenta la realtà è quella che ti indica poi la strada cioè la scelta è anche questo no? un senso in senso evolutivo se la vogliamo vedere è molto interessante sì mi ha colpito un'altra cosa quando ci siamo sentiti telefonicamente raccontavi che spesso ti capita di molto spesso ti capita di attirare persone no? interessanti o che ti ti donano qualcosa ma non da un punto di vista materiale ma di 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 esperienze di racconti di storie di professionalità quindi hai questa capacità di non lo so attirare questo questo tipo di persone continuamente no? in diversi campi per stimolarti forse non lo so cerca trova per me io ho cercato dei maestri e ne ho trovati cioè io giustamente sono un allievo cioè non ho cioè magari un giorno però le capacità di dare veramente qualcosa a qualcuno al momento io mi ritengo ancora in ricerca e è la ricerca specialmente di maestri ne ho trovati è uno di questi poi ne ho altri di epici sono sei o sette cioè mi hanno fatto crescere sotto mille punti di vista non che adesso sia veramente cresciutissimo ma sì cioè io credo che quando hai a che fare con un maestro così capisci che l'energia nel lifestyle è tutto in un modo o nell'altro cioè l'energia di una conversazione l'energia di una stanza delle persone con cui ti stai interfacciando sì quindi è importante selezionare anche questa cosa qua soprattutto all'inizio cioè all'inizio di una vita è importante anche selezionare delle persone che ti ti stimolino che ti diano quel perché se sei deboluccio inizialmente è meglio avere delle rocce su cui stare poi quando sarai più tu una roccia potrai avere tutta l'acqua attorno insomma cioè poi forse anche la capacità di assorbire no? quello che ti serve no? prendere quello che ti serve anche perché assorbi di default comunque assorbi e poi fai una sorta di collage no? sì e poi lo rielabori sì lo rielabori te e crei no? e vittorio fondamentalmente sì sì poi io appunto cioè io veramente credo che se i piccoli successi che 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 ho sto avendo così ho avuto cioè che alla fine si traducono semplicemente nell'avere la mia indipendenza economica in fare quello che mi piace veramente però non so ho raggiunto questa cosa qua ma mi sono sono interessanti i momenti che viviamo oggi cioè l'epoca che viviamo oggi cioè vorresti essere in un'altra epoca o dici no questa è l'epoca intanto non so come ho avuto una specie di buco perché mi è venuta in mente un'altra cosa e mi sono dimenticato cosa che stavo per dire però invece per quanto riguarda il tema del momento in cui viviamo oggi porca vacca cioè io ci sguazzo tra l'altro faccio una premessina alle tre videocamere a te a te a tutti quelli che sono qua salutiamo il nostro pubblico numeroso di Beastime io devo fare questa premessa ho di sicuro un take iper pragmatico cioè comunque bisogna acquagliare questa vita Dio ti ha dato il cervello per usarlo però credo anche in Dio credo in una serie di dimensioni più sottili credo che ogni tanto abbia senso anche dedicare le mie orecchie a cose che non starebbero né in cielo né in terra per le persone normali e quindi per esempio sentivo questa intervista questa mistica questa medium che parlava del fatto di che se partiamo dal presupposto da quello che mi ha premesso che esiste la reincarnazione che comunque la vita continua anche dopo la morte che ci si incarna proprio in questo pianeta e che è quasi una scuola evolutiva in qualche modo lo è a tutti gli effetti sì e praticamente questo diceva se noi solo sapessimo quante anime sono fuori in waiting list per incarnarsi su questa terra in questo momento storico cammineremmo fieri come degli dei perché perché siamo dentro capito cioè è pieno di anime fuori che vorrebbero stare qua perché è un momento di cambiamento allucinante dove anche la coscienza ha una chance di fare un salto qualitativo enorme quindi tu dici qua è l'epoca che ho scelto io è un momento caldo non è che ok mi piace ho scelto io di esserci adesso e di imparare delle determinate cose di fare dei salti la cosa può essere controversa perché allora cioè si potrebbe parlare di allora perché uno invece sceglie di venire magari però io sono tranquillo capito Milano Peppe poi invece c'è gente che si incarna e sta in guerra che è un disastro no e quindi è controverso il tema però dal punto di vista dei maestri invece quelli che invece magari non ho conosciuto fisicamente ma dei maestri spirituali di tutte le tradizioni pare e che questa è l'altra premessa è importante dovrei fare appunto mezz'ora di premesse comunque cioè il fatto che facciamo podcast più mezz'ora di premesse cioè il fatto che per tutti i maestri appunto la premessa è che io sono appassionato della cosiddetta filosofia perenne o cosiddetta tradizione che è quel filo rosso che connette tutte le culture mistiche iniziatiche del mondo spirituali spirituali sì ecco per tutte fammi trovare le parole giuste ai tuoi tempi come canio west che sta zitto un po' sì fai farlo non è un problema 10 minuti di silenzio cioè la gente pensa questo sta tirando fuori non so la perla del giorno no diciamo che da quel punto di vista in cui esiste appunto la reincarnazione eccetera eccetera quella che è la vita nostra poi passa in un secondo cioè anche anche che tu sia nella situazione più tremenda anche io ho avuto delle situazioni tremende nella vita ma oggi per quanto abbia sofferto in quel momento lì non c'è più perché passa tutto passa tutti quindi i maestri di tutte le tradizioni ti dicono comunque anche anche il momento più buio della tua vita è fatto per passare e per farti essere più ricco anche se poi passi morendo perché la vita continua in un modo o nell'altro però questo è un presupposto del cui parlo io parto io dopo una vita da piccolo giovane veneto aspirante bestemmiatore professionista dopo la 20 me la bestemmia numero 20 mi ha pensato ma chi è Dio comunque ma chi sono io per squalificare tutta la tradizione di tutto il mondo tutta la tradizione alta veramente dei grandi maestri allora a un certo punto ho alzato di nuovo le antenne come le ho alzate per lei ai tempi e ho pensato cioè comunque questi alla fine cioè come faccio a squalificare tutti la Krishna Murti a San Francesco da Yogananda Sai Baba da cioè tutti capito io con le mie bestemmiucce quindi ma in realtà alla fine poi se tu studi bene con tutte le stesse cose io ne parlavamo prima no di Gesù quando dice beati quelli che credono senza aver visto cioè io non ho visto queste cose però ci credi da una parte ci credo te lo senti dentro si lo sento ma hai detto una cosa prima noi vediamo sempre il te sorridente il te appassionato super curioso di tante cose della novità futurismo eccetera eccetera però poi prima hai parlato anche di tremendi traumi no? che ti hanno un po' segnato no? per me è tutto relativo quello che potrebbe essere un trauma per me potrebbe essere un gioco per un altro però sì io diciamo che questo poi vediamo se tagliarlo o no però in generale anche vabbè poi ho delle mie cose intime che magari ci sta che rimangano intime però dal punto di vista invece della formazione mia personale forse il lavoro di mio padre che è stato un avvocato cioè un avvocato penalista di ecco con lei sono persone tremende veramente cioè killer mafio cioè camorristi da qualunque cioè essere un bambino e vedere queste dinamiche che ti fanno mettere un secondo in prospettiva le cose della vita cioè ti fanno dire ma perché tipo io mi ricordo di aver fatto ecco questo è un momento diciamo a livello filosofico ecco io ho il lusso di avere un problema basso che è legato alla filosofia non condizioni fisiche però ecco il fatto di essere bambino chiederà alla mamma mia mamma ma che lavoro fa il papà e che mia mamma mi dicesse guarda che se uno ruba una mela il papà viene chiamato e capisce se il signore non ha rubato la mela magari per darla al figlio o perché stava morendo di fame o perché il figlio stava morendo di fame cioè è necessario fa parte di un mondo devoluto è il fatto che una persona abbia il diritto alla difesa certo e quindi questa cosa qua mi ha portato un po' a ragionare nell'ottica del determinismo quindi da una parte hai l'assassino di dieci prostitute che colleziona i bulbi oculari nei barattoli così e che viene giustificato perché da giovane si spacca la testa in moto perde la capacità di intendere di volere diciamo e quindi l'atto più barbarico più diabolico è giustificato da una cosa predeterminata che fosse stata per lui non avrebbe scelto allora se il mostro è giustificabile questi erano pensieri che mi facevo a 17 anni se il mostro è giustificabile allora in realtà anche l'amore della mia famiglia è predeterminato perché è normale che tu ami figli è normale che se non hai avuto traumi cose problemi stai col bambino ti affezioni lo ami e metti lui davanti ad altro quindi per me era diventato quasi tutto un po' flat un po' di plastica fino a che non mi sono reso conto del fatto che esiste una specie di libero arbitrio esiste una specie di cioè non è tutto predeterminato forse è 50-50 cioè nel senso ecco qual è per esempio però lì stavo malissimo cioè veramente io vedevo uno che andava bene a fare il suo lavoro andava bene a scuola faceva le sue cose pensavo vabbè ma è ovvio cioè il tipo ha avuto i soldi per studiare la situazione in casa tranquilla è tutto a posto è intelligente è ovvio che va bene a scuola non è proprio così no poi l'ho capito però quella roba mi faceva pensare che quello che aveva i meriti era un coglione come invece il criminale che è poveretto è finito invece è proprio un 50-50 esatto com'è lei sei riuscito questo ne avevamo parlato anche un po' quella famosa chiacchierata di due anni fa a Parco Sempione cioè com'è lei integri la questione del fato del destino delle moire come dire il tema della libertà la libertà del libero agire umano portato dal cristianesimo in un certo senso se vogliamo è la novità che porta il cristianesimo non il cattolicesimo il cristianesimo Cristo esatto quella è la venuta del Cristo è tutto il mondo prima cioè il mondo legato ai classici greco grazie a te alla fine greco e latino come sei riuscito a come dire giocarci e costruire una tua idea su questo cioè quanto è quanto è destino è fatto quanto è la libertà il libero agire umano com'è che ci sono arrivato leggendo ricordo di aver letto la biografia di Steve Jobs e di averla chiusa nel secondo in cui no vabbè forse poi a un certo punto l'ho finita però a un punto parlano del fatto che Jobs avesse nel suo ipad che aveva creato lui solo un libro su ibooks che aveva creato lui poteva vedere tutto aveva solo un libro ho pensato devo leggere questo libro l'ha fatto a distribuire dopo la sua morte al funerale ed era l'autobiografia di uno yogi che diciamo secondo me è stato il libro iniziatico che poi giustamente io credo che tutte le tradizioni dicono le stesse cose più o meno e che uno in linea di massima è anche meglio se si rifà la propria tradizione a quella che gli risuona a livello archetipico cioè se il classico ragazzetto fricchettone prendeva in India perché cioè secondo me lascia il tempo che trova perché gli stessi messaggi ce li hai qua e lo Yogananda secondo me questa cosa già la l'aveva capita lui è stato l'uomo che ha portato lo yoga in occidente diciamo però per farlo meglio e anche per parlare della vera cioè di come stanno le cose veramente spiegava in realtà il Vangelo cioè lo spiega un indiano io ero più felice che me lo spiegasse un indiano io ho passato una vita da piccolo mentre i miei amici schietavano di fronte a una chiesa io parlavo col prete le ore le ore pensavo fa strano molte cose mi fanno strano di questa storia del cattolicesimo la curiosità comunque che c'è il fatto che tu parlassi di unipretti il fatto che ti incuriosisce sempre parlare con persone questa cosa qui mi colpisce perché è un tratto molto originale cioè molto è il daimon molto tuo io so che cioè comunque devo sempre aprire tipo fare gli asterischi e dovrebbe comparire un banner in cui in cui tipo dico comunque io sono ignorante cioè comunque non è che ho quagliato un cazzo della vita cioè infatti boh piano piano insomma cioè io ricordo da piccolino di aver cioè piccolino relativamente avevo avuto 14 anni vedo queste interviste in tv non so che sia stato il visionario che ha scelto di fare questa roba qua cioè di chiamare Fabri Fibra che al tempo era rapper X che sei contento di sentire cosa dice anche perché era uno dei più insomma comunque un uomo intelligente eccetera eccetera però ho intervistato di fianco a Galimberti che poi io stimo lascia mi lascia qualche dubbio no il modo in cui si scontra in modo amaro con le nuove generazioni con molte cose però vedere quella cosa a 14 anni vedere quest'uomo che mi parla dei grandi filosofi del passato del concetto di daimon cioè del fatto che i ragazzi oggi soffrono e soffrono perché non sanno che il daimon esiste che è un concetto che poi il cattolicesimo ha tramutato in demone ed è diventato negativo però il daimon sarebbe quella cosa che ti ti dà uno spazio nel mondo in qualche modo e tu ognuno ha questa cosa qua dentro di sé il proprio demone ma inteso in modo positivo e va scoperto e si scopre capendo cosa ti piaceva fare da piccolo si scopre capendo cosa ti piacerebbe fare sempre io per esempio sono nato e te direi che l'hai trovato eh sì perché da piccolo mi piaceva e questa è la grande probabilmente ho avuto culo a vedere quella roba di quelli in parte che diceva a volte il culo però questa è la cosa ma ti faccio una domanda ma quindi il libro che mi hai citato prima è quello che ti ha cambiato la vita quello più importante ma il primo che sì 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 cioè sì perché sì perché è proprio come Anna Montana capito the best of both worlds cioè è una città che non so chi coglie qua però il fatto è che io non l'ho colta però il fatto è che anima antica la mia però il fatto è che cioè sia in India hanno la verità che poi identicamente ce l'abbiamo noi con la nostra tradizione alla fine veramente dicono tutti le stesse cose Yogananda è stato maestro in questo senso tra l'altro i Beatles si rifacevano molto a Yogananda io ho trovato tanti amici appassionati di questo maestro che diventano amici di default tipo se sai che uno ha letto Yogananda cioè non è un culto una setta tipo una roba che se tu l'hai letto un altro l'ha letto cioè di voi bene perché cioè non so l'altro giorno ne parlavo con un mio amico che ha visto il libro poi questi maestri arrivano sempre in un momento giusto della vita perché in un modo o nell'altro si dice che trascendono il tempo e lo spazio e minchia appunto un mio amico lo nota fra dieci libri che avevo nota quello lo lo apre gli inizio a parlare di quella cosa lì e dice me lo porto a casa in quel momento iniziano a scoprire i fuochi d'artificio fuori cioè come per dire in realtà poi questi maestri hanno qualcosa che muove il mondo a livello sincronico non direbbe Jung anche a distanza no di millenni mi ha servito un assist incredibile vai hai parlato di tempo e spazio allora ti voglio chiedere anche con l'introduzione no cioè ormai l'utilizzo quotidiano dell'intelligenza artificiale com'è cambiata la tua percezione del tempo e dello spazio allora in teoria il tempo e lo spazio sono relativi tra l'altro io comunque ultimamente sto iniziando a vedere il tempo non come passato presente futuro ma come un presente costante a cui orbitano attorno come l'atomo il passato e il futuro però alla fine che tu sia cioè già adesso è rispetto a ieri eccoci qua no quindi siamo nel futuro però non cambia mai un cazzo cioè sei qua che non ti vedi la faccia e vedi le zampette qui così c'è pure quella lì puoi camminare c'è una vita strana comunque no e gira tutto sempre così alla fine forse il tempo veramente non esiste esiste solo il grande presente il motivo per cui comunque la meditazione funziona perché è un modo per abituarti a questa dinamica a questa dimensione del presente eterno il tempo e lo spazio c'è di sicuro il tempo si è velocizzato cioè dal punto di vista canonico più che canonico di percepito normale anche se io vedere tutte le news che escono è da cagarsi addosso cioè io veramente ogni tanto cioè è assurdo capito mi hanno chiesto di qual è la cosa che ti ha colpito di più vabbè ne parlavamo prima la tavola perché è bello anche il momento conviviale della tavola tutti insieme insomma no è bello vabbè insomma ti tengo sempre cos'è che mi ha colpito di più di queste cose a me la cosa che ha colpito di più di tutte queste di questi tool di queste tecnologie che escono è il fatto che ce ne sono mille che mi hanno colpito e quello è il fatto che mi colpisce di base cioè perché ne esce fuori una a settimana e basterebbe una a cui dai uno due anni di sviluppo per cambiare tutto il mondo e quindi quindi diciamo che la top ce ne saranno mille capito io anche prima scusa ti interrompo certo parlavamo di come immaginarsi il futuro da una parte da una parte è impossibile cioè è impossibile dall'altra per immaginarsi il futuro si può cioè ci sono troppe cose veramente cioè tipo parlavo con questi miei amici nel campo del cinema di come l'AI entrerà nel cinema io ho questa teoria che il cinema rimarrà ovviamente sarà agevolato come il teatro adesso è agevolato dalla tecnica c'è il fatto che ci siano le luci i walkie talkie per dire a quello che sta a 100 metri gli dice oh tira giù cioè la tecnologia arriva anche nel teatro questa tecnologia arriverà anche nel cinema però si creerà come si è creato il cinema dopo il teatro per la tecnica nuova si creerà una nuova cosa che io adesso qui ho affibbiato un nome provvisorio per capirmi io li chiamo i dreams tipo i sogni cioè inventeranno una cosa che è oltre al cinema probabilmente e che sarà io penso quando sei un Quentin Tarantino per fare un esempio easy scrivi il character di un personaggio cioè la personalità di un personaggio definisci quella personalità tramite certe azioni e certe frasi che alla fine se le conti le frasi che dice una persona in un film possono essere anche poche però ti danno la direzione intenzionale di quel personaggio in particolare in futuro probabilmente tu avrai questi post in cui entri o se vuoi vederli su uno schermo ti guardi su uno schermo e non hai le dieci frasi che dice il personaggio hai quel personaggio in cui hai caricato dentro una personalità con delle linee guida e poi lui improvvisa di lì per sempre capito poi carichi che in un certo momento deve succedere una certa dinamica potrai interagire con queste cose potrai scegliere se è vero un'esperienza più attiva o più passiva credo però sarà sarà strano forse nel mondo dello sport è quello dove impatterà meno cioè nel senso hai bisogno dei giocatori hai bisogno degli sportivi che corrono che facciano canestro che facciano gol che facciano una parata che facciano una schiacciata a pallavolo colpo da tennis c'è questo fatto io sono già so ignorante di quello che abbiamo detto fino ad ora lo sport è ancora proprio vieni nel mio terreno allora praticamente il fattaccio è che il fatto è che se tu guardi un atleta di atletica leggera oggi i record che fa oggi sono superiori ai record che si facevano 50 anni fa questo è sempre l'umano che sta lì però cambia così tanto il contesto attorno che tu magari puoi dedicare più facilmente la tua vita a fare certe cose e quindi in realtà darà indirettamente allo sportivo qualche strumento però è appunto è quella diciamo però si rimarrà influenza costruttiva evolutiva positiva di cui parlavamo prima che l'intelligenza artificiale dà e impatterà meno non toglierà probabilmente posti di lavoro perché comunque sempre il giocatore deve andare in campo sì sì ma poi queste cose il rimpiazzare i lavori è vero quegli alienanti sì forse è anche giusto come è stata la robotizzazione negli anni 80 per i lavori manuali è giusto l'alienazione come dire che scompossano andarsene piano piano i lavori alienanti da un punto di vista intellettuale no da un punto di vista pratico no intellettuale cioè quelli che sono alienanti ripetitivi non non danno quel quid in più quel qualcosa in più non ti fanno scavare dentro non ti fanno forse non c'è neanche spirito critico in quello che fai è semplicemente un gesto ripetitivo prima si faceva 100% con le mani e si spuola testa 100% però si teniamo sempre presente un aspetto che l'intelligenza artificiale è uno strumento c'è il messaggio che deve passare io credo dalla lunga chiacchierata di oggi che sia uno strumento pensato dall'uomo 100% di cui l'uomo se ne possa servire ma che è l'intelligenza appunto è un'intelligenza artificiale quello che le manca che non potrà mai sostituire l'uomo è la coscienza questo è fondamentale perché che è quello che fa Gin quello di cui parlavo prima il punto su cui stress diciamo che adesso cito una cosa che di cui io non sono maestro in nessun modo ma proprio cioè quasi mi sento un coglione a citare questa cosa qua però lo faccio per capirsi grandi linee mi sembra che il concetto dell'albero della vita cabalistico sia comune in varie tradizioni per esempio quello che potrebbe essere l'albero sefirotico ebraico quindi sfera 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 è la stessa cosa di chakra più o meno che è un altro albero della vita sempre si tratta di sfere di competenza che sono tendenzialmente queste della colonna vertebrale quindi hai la testa che è importante l'intelligenza che puoi avere l'intelligenza artificiale poi hai il cuore che invece quello non abbiamo la scienza tuttora non riconosce questa sefirot diciamo e quindi è lungi dallo sviluppare il cuore artificiale esiste però l'anima artificiale non esiste la pancia nemmeno le palle è un'altra cosa le palle artificiale esisteranno fisicamente ma non a livello di intenzione sai cosa a me ha un po' cambiato la vita il mito dell'auriga ho scoperto che poi è anche una cosa di cui parlava Gurdjieff che credo sia stato l'uomo che si rifaceva abbattiato nella sua conversione all'islam che diceva che tu sei una carrozza anche io anche tu tutti io questo cioè i miei amici mi odiano perché contorrompo il cazzo con questa storia della carrozza cioè ogni persona è una carrozza più o meno e il corpo è la carrozza di legno con le ruote eccetera i cavalli sono lo spirito e qui si inizia a capire un po' la differenza fra anima e spirito certo quindi lo spirito di avventura lo spirito di iniziativa la cosa che ti fa spiritoso e quell'energia poi è il cocchiere che è il cervello che se fosse veramente importante non farebbe il cocchiere diciamo cioè lui è importante che faccia il cocchiere che controlla che il cavallo hanno mangiato che la carrozza è posta però deve ascoltare la voce del padrone cosiddetta quindi deve ascoltare il cuore che sta dentro e tu fai finta che c'è la regina dentro la carrozza se il cocchiere intelligente ascolta dove deve andare la regina e si muove di conseguenza anche con tutte le palle tutta l'energia dei cavalli boom si va dritti di là se facesse per troppo per i fatti suoi verrebbe impiccato capito oppure se ci fossero quattro cocchieri non avrebbe senso capito se il cocchiere deve essere bravo a fare il suo non deve strafare non deve entrare dentro non deve tirare lui al posto dei cavalli e tantomeno deve tirare la regina cioè ci sono le persone troppo idealiste che non hanno capito che l'idealismo è una cosa intima e poi devi attuarlo diciamo nel mondo praticamente invece questo idealismo che ti stacca dalla realtà vera e propria poi anche lei lascia il tempo che trova questa dinamica io ti sto facendo tantissime domande quanto è importante poi alla macchina fare la domanda quella giusta quella intelligente quella che ti permetta di perché cioè in realtà guarda relativo cioè le domande spesso sono banali e quindi vengono fuori soluzioni banali sì però ci sono delle cose paradossali perché tipo tu potresti dirle qual è la domanda più intelligente che ti posso fare e lei te ne consiglia e e tu scegli cioè sì comunque certamente l'input fa tutto dell'output quindi cioè lì il vero la vera discriminante è l'intenzione è l'input che tu dai è quello che vuoi ottenere ma come nella vita cioè per quello secondo me è molto simile al misticismo alla magia no? la magia è anche Harry Potter anche se la vera magia di Giordano Bruno non è quella di Harry Potter però la magia è i magos cioè anche Harry Potter vuole una cosa e tipo vuole trasformare quella roba in una rana lo vuole e poi succede capito? però prima devi volerlo e la magia è volontà è la volontà è la volontà mi piace tantissimo poi ho anche un altro tipo di magia di cui parlo sempre qual è? che è la magia del possibile quello che è tutto se sei aperto e lo vuoi può cadere è vero no? sì sì è vero e a me piace tantissimo questa definizione queste tre parole no? magia del possibile no? sì sì cioè allora da una parte comunque è un muscolo che va allenato perché io per esempio mi sono trovato più volte a ripetere questa cosa e poi penso vabbè ma se veramente tutto fosse possibile la mia quaresma diciamo ramadam come simpaticamente lo chiamano è un esercizio di no è cento per cento allora sì esatto cioè di sicuro questa impotenza è così cioè impotenza quello che vuoi lo puoi è anche vero che non è così automatica la cosa però di sicuro cioè si inizia ad allenare con il muscolo secondo me cioè non è secondo me questo l'ha detto qualcuno che non ricordo però credo anzi sia abbastanza risaputa come come cosa cioè il fatto che volere è potere ma le persone non sanno quello che vogliono non lo definiscono e quindi non rimangono lì ma perché non non sanno cosa vogliono capito cioè se tu definissi le volontà io l'ho fatto ogni volta che ho scritto le cose che volevo mi sono successe tutte le volte che non l'ho scritto non mi succedeva niente perché la volontà è cioè la magia è volontà capito e la magia è una roba che esiste veramente il mio pallino è che le uniche entità che oggi fanno magia sono i brand cioè la magia sta su tre pilastri diciamo che è il sigillo magico il la formula magica l'abracadabra piru piru e il rituale e i brand fanno così fanno logo payoff e campagna e la volontà però il capitale quando hai un brand è quello di vendere quindi tu fai magia in quel senso quindi usi le immagini usi le parole usi le immagini ritualistiche diciamo con l'obiettivo di vendere qualcosa se tu potresti farlo per i fatti tuoi hai capito io me la prendo tutta questa qua della magia della volontà siamo verso la fine mi dai in cento caratteri in una frase Vittorio Maria Dalmaso io devo dirti di me stesso in cento caratteri ti piacciono i tweet te l'ho promessa ah così io sono un uomo tranquillo il tuo tweet ha fatto come dire un piccolo sperimento già fatto e un piccolo regalo no il fatto che sei venuto qua che sei stato con noi ci hai regalato questa questa bellissima chiacchierata ci sono due componimenti uno è scritto da me e uno è fatto tramite intelligenza artificiale ah cazzo devo riconoscere quale è quale secondo me è facile riconoscerli ok ora te li leggo e poi facciamo un gioco tutti insieme e vediamo quello che che viene fuori anche i soggetti sono diversi nel senso che una è dedicata a te e una è dedicata all'intelligenza artificiale ah non vuoi ok le leggo parto quella per te nel suo cuore spirito ardente arte e futuro si fondano incandescenti la moda danza vibrante potente nell'abisso dell'intelligenza brillante veste l'arte in coraggio futurista in spirito con impeto selvaggio ai confini dell'orizzonte egli si avvicina con il pensiero che si innalza mente e anima fervido occultore di spirito elettronico sulle ali della I viaggia sovrumano tra byte e codici il suo mondo simbolico sogno al futuro manifesto sovrano figura inquietante e futurista tra estetica e spiritualità all'artista nella profondità dell'anima si svela la modernità e del passato unisce in tela ti leggo la seconda più breve corre sfuggente inafferrabile nell'etere leggera rapida come nuvole nei terzi cieli estivi cifra della modernità priva di materia per essenza abbandonato ormai l'ignoto si appresta al presente con novità e forza con slancio visionario e dolcezza seducente allora la seconda è tua da cosa lei cioè se mi rifacevi questo esperimento fra un anno secondo me non capivo però secondo me la seconda ha più anima ha più spirito ha più spirito e quindi tu lo chiami spirito comunque io lo chiamo spirito perché è più dell'anima sì no esatto ma poi cioè alla fine queste parole è la prima è la prima ho messo qualcosa la prima era I.I.I. la prima I.I.I. ah ok perché se la sbagliavo comunque era una gaffe capito la prima I.I.I. ho però l'ho arricchita gli ho dato elementi per te ed è mi sembrava mi sembrava molto nel tuo spirito e poi ho detto cioè praticamente è la stessa sensazione di quando questa la bippiamo di quando mi fanno una sega oh oh però ha avuto dubbi poi però hai avuto dubbi a un certo punto hai avuto dubbi a un certo punto ho avuto dubbi a un certo punto hai avuto dubbi va bene e il tuo compagno di viaggio non è che mi lavoro questo non è che mi pagano per capire se è una roba ma il tuo compagno di viaggio ti è piaciuto madonna io ho volato ho volato grazie va bene grazie Vito grazie a te davvero grande cazzo io ti amo ti amo grazie mamma mia mamma mia bellissimo grazie ragazzi grazie io spero di non aver detto troppe troiate no 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 anzi è stato super è stato super figo alla grande madonna che siga tipo mia ma dai sei grazie